Una persona è morta nell'incendio che nel primo pomeriggio si è sviluppato in una palazzina in ristrutturazione in via Edoardo Donofrio, a Coglianiene, a Roma. Almeno 7 persone sono rimaste ferite, 3 in modo grave, e 10 intossicate. Sono state trasportate dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio e al Policlinico Umberto I. Voglio uscire da casa, urlavano i residenti della palazzina andata a fuoco. Chiamate i vigili del fuoco, uscite, uscite, rispondevano alcune persone in strada. Nelle immagini intenso fumo nero che fuoriesce dal palazzo. Si tratta di un edificio sul quale si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Alcune persone portate in salvo dai vigili del fuoco hanno complicazioni respiratorie per via del fumo. Altre sono al vaglio dei sanitari. Sul posto anche la polizia. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. In questo modo ci aiuterai a crescere, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti.